Rimedi naturali e casa per infezioni dell'orecchio. Le infezioni dell'orecchio sono causate da batteri o virus nell'orecchio medio. Le infezioni dell'orecchio si verificano più spesso nei bambini rispetto agli adulti. Alcune cause e fattori che contribuiscono che portano a infezioni dell'orecchio sono l'accumulo di cera, le infezioni delle vie respiratorie superiori, allergie alimentari, allergie ambientali, la sindrome alcolica fetale, la genetica, carenze nutrizionali e lesioni interne. Alcuni segni comuni che qualcuno soffre di un'infezione all'orecchio sono dolore nell'orecchio, tirando l'orecchio, disturbi del sonno, mal di testa, scarsa risposta ai suoni, febbre alta, il fluido di drenaggio dall'orecchio, vomito, diarrea e così via. Ogni parte ha funzioni specifiche che aiutano una persona a sentire. Si può vedere nel diagramma che l'orecchio esterno, che forma come una foglia, cattura le onde sonore che viaggiano. Nella parte più esterna del nostro orecchio, vi è una sezione come pinna e attraverso questa sezione le onde sonore entrano nel condotto uditivo. Attraverso il canale uditivo le onde sonore raggiungono il timpano, che si trova nella parte centrale. Inoltre, la sezione centrale dell'orecchio ha anche altri importanti organi orecchio come martello, incudine, suscitare, assemicerchio, e il canale centrale. Attraverso il canale, le onde sonore viaggiano alla sezione interna del nostro orecchio. Nella parte interna dell'orecchio, ci sono parti importanti orecchio come coclea, tube di e ustacchio nervi. Le onde sonore dal canale vengono inviati ai nervi modo che il cervello può elaborare il suono. Dopo che siamo in grado di riconoscere il suono e capire. Un'infezione dell'orecchio può verificarsi in qualsiasi delle tre parti. Infezioni dell'orecchio interno sono le più gravi. È importante trattare un'infezione all'orecchio per evitare complicazioni, tra danneggiare o rottura del timpano. Infezioni dell'orecchio non trattata può anche portare alla recidiva cronica e può anche causare la sordità. È importante consultare un medico, ma per un sollievo immediato si può provare alcuni trattamenti naturali. Ci sono molti rimedi casalinghi, semplice e facile tempo onorato che possono aiutare a sbarazzarsi del dolore e degli altri sintomi di un'infezione all'orecchio. Ecco i primi 10 rimedi domestici per un'infezione all'orecchio. Sale Il sale è probabilmente il rimedio a casa più facilmente disponibile. Riscaldare una tazza di sale in una padella a fuoco basso per qualche minuto. È anche possibile riscaldare in un forno a microonde o bagnomaria. Posizionare il sale caldo su un panno e sigillare l'estremità aperta con l'elastico, o un nodo. Quando è biarabli caldo, stabilire e mettere il panno sull'orecchio colpita per 5 a 10 minuti. Ripetere questo rimedio giornalmente come numero di volte necessario. Il calore generato dal calzino contribuirà a tirare fuori il fluido dall'orecchio e alleviare il gonfiore e dolore. In alternativa, è possibile utilizzare una tazza di riso nello stesso modo descritto sopra. Aglio Aglio ha proprietà antimicrobiche e antidolorifici qualità naturali, che rende altamente efficace nel trattamento delle infezioni dell'orecchio. Ci sono alcuni modi per utilizzare l'aglio come trattamento a casa. Fare aglio-olio da cucina 2 spicchi d'aglio in 2 cucchiai di olio di sesamo o olio di senape finché non si rivolgerà nel rastro. Filtrare la soluzione Quando è biarabli caldo, utilizzare 2 a 4 gocce di questo olio nell'orecchio infetto come gocce orecchio. In alternativa, si può anche far bollire 2 o 3 spicchi d'aglio fresco in acqua per 5 minuti, poi lì schiacciare e aggiungere un po' di sale. Mettere il composto in un panno pulito e posizionarlo contro nell'orecchio interessato. Consumare 2 o 3 spicchi d'aglio crudo al giorno aiuta anche ad accelerare il processo di guarigione. Basilico È inoltre possibile utilizzare basilico santo per trattare le infezioni mal d'orecchie e orecchie minori. Si può alleviare il dolore alle orecchie, nonché ridurre l'infezione. Cruz 4 e 56 Santa foglie di basilico fresco delicatamente per estrarre il succo. Applicare il succo di basilico suo intorno all'orecchio infetto. Evitare che il succo nel condotto uditivo. È anche possibile mescolare qualche goccia di olio al basilico santo con una pari quantità di olio vettore, come l'olio di cocco. Bagnare un batuffolo di cotone nella miscela e pulire delicatamente appena dentro l'orecchio, intorno al bordo esterno e dietro l'orecchio. Ripetere la procedura due volte al giorno. Aceto di mele Per sbarazzarsi del fungo che può causare l'infezione dell'orecchio, aceto di mele è una buona opzione. Mescolare una parte di aceto di sidro di mele con una pari quantità di acqua o alcol. Immergere un batuffolo di cotone nella soluzione. Mettere la palla di cotone nelle orecchie come una spina e lasciare per circa 5 minuti. Togliere il batuffolo di cotone e si sdraiò sul lato opposto per drenare il liquido dall'orecchio. Utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'orecchio, per quanto possibile. Se aceto di mele non è disponibile, è possibile utilizzare l'aceto bianco. Se la causa della infezione dell'orecchio è nelle trombe di eustachio, provare gargarismi con l'aceto di sidro di mele. Olio d'oliva Una delle principali cause di un'infezione all'orecchio è cera nell'orecchio cattura certa crescita fungina o batterica portando ad un blocco nei tubi di eustachio. Si può facilmente eliminare l'ostruzione con l'aiuto di olio d'oliva. Scaldare un po' po' di olio d'oliva. Mettere alcune gocce di olio caldo nell'orecchio infetto. L'olio farà sì che la cera per ammorbidire. Rimuovere la cera infetta con tamponi di cotone con punta. Fare attenzione a non mettere il tampone troppo nell'orecchio o si potrebbe danneggiare il timpano. In alternativa, è anche possibile utilizzare olio di senape. Bottiglia d'acqua calda Non appena possibile, applicare calore all'orecchio infetto. Questo sarà rapidamente alleviare parte del dolore e eviterà anche microrganismo o infestazione. Premere una bottiglia di acqua calda o riscaldamento pad contro l'orecchio. È inoltre possibile utilizzare un impacco caldo. Immergere un panno pulito in acqua tiepida, suonare l'acqua in eccesso e quindi posizionare l'asciugamano sull'orecchio infetto. Non applicare calore per l'orecchio per lunghi periodi di tempo. Inizia con 5 minuti, togliere il calore per un po' e poi ripetere il processo, se necessario. Cipolla La cipolla è un ingrediente molto comune e usato in cucina. Ha usi medicinali troppo, anche per il trattamento di un'infezione all'orecchio. Tritate una cipolla piccola, metterla in una ciotola e forno a microonde per 1 o 2 minuti. Lasciare raffreddare e poi filtrare il succo di cipolla. Mettere 2 o 3 gocce di succo nell'orecchio infetto, lasciare per qualche tempo e poi girare la testa per lasciarlo defluire del vostro orecchio. Si può anche cuocere una cipolla per mezz'ora, tagliarlo a metà e mettere una metà in un panno di cotone spesso. Posizionare il panno sull'orecchio infetto per 5 minuti. Attendere per 10 minuti e poi ripetere il processo. Olio dell'albero del tè Le proprietà antibatteriche miti presenti in olio di tè a 3 possono dare sollievo immediato dal mal d'orecchio. Per il trattamento di un'infezione all'orecchio, procedere come segue. Mescolare 3 gocce di olio di tè a 3, 2 cucchiai di olio d'oliva, un cucchiaino di argento colloidale e un cucchiaino di aceto di mele. Scaldare leggermente il composto. Disporre su un fianco con la testa su un asciugamano. Utilizzando un contagocce, riempire il vostro orecchio con il composto e lasciate riposare per 5 minuti. Poi girare laici sul lato opposto in modo che i canali di scollo miscela fuori del vostro orecchio completamente. Seguire questo rimedio due o tre volte al giorno per due giorni. Succo di mango foglia. Mango estratto di foglie è un trattamento rapido ed efficace. Schiacciare o macinare due o tre foglie di mango morbide per estrarre il succo. Un po' caldo il succo. Utilizzando un contagocce, mettere tre o quattro gocce di succo nell'orecchio infetto. Nel giro di pochi minuti, vi sentirete sollievo dal dolore. Seguire questo rimedio due o tre volte al giorno per tutto tondo da un'infezione all'orecchio. Latte materno. Il latte materno ha anticorpi naturali che possono aiutare ad accelerare il processo di guarigione di qualsiasi tipo di infezione dell'orecchio. Sarà alleviare il gonfiore e il disagio e può sbarazzarsi di un'infezione all'orecchio entro uno o due giorni. Questo rimedio funziona per bambini e adulti. Utilizzando un contagocce, mettere qualche goccia di latte materno nel nell'orecchio interessato. Ripetere il processo ogni poche ore se necessario. Il latte materno può anche essere usato per trattare le infezioni agli occhi, piccoli tagli e ostioni lievi.